Principessa contro falsa regina, vince la principessa. Che cos'è? Che desideri? Eh? Ti ha offerto di realizzare i tuoi sogni? Certo, e quanto sarebbe durata? Io desidero solo andarmene da qui, trovare la mia asina e tornarmene a casa. E tu? Che desideri? Che tutto torni come un tempo. Non possiamo tornare da dove siamo venuti, dovremo trovare un'altra strada. Che cos'è? Che cos'è? C'è me servono là. 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 Grazie a questo potere potremmo accedere ai suoli fertili della Roccaforte e del Palazzo Reale. Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Padre, è Ariman! Devi combatterlo! Contro le tenebre! Pronta! Contro le tenebre! Padre! Forse man mano che risaneremo le terre, tuo padre starà meglio. Non ci credi neanche tu? No, è vero. No, è vero. No, è vero. No, è vero. Grazie.